Il messaggio che arriva allo spazio, lanciato dalle spazio, interrompio la trasmissione radio in questo luogo delle stelle entra in contatto il giovane e il pianeta e l'albero promettendo la sanguizia che è così, sta l'ora Il messaggio che arriva allo spazio, interrompio la trasmissione radio Il messaggio che arriva allo spazio, interrompio la trasmissione radio Il messaggio che arriva allo spazio, interrompio la trasmissione radio Il messaggio che arriva allo spazio, interrompio la trasmissione radio Il messaggio che arriva allo spazio, interrompio la trasmissione radio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.